marco balzarotti vuoi scoprire il gusto della primavera bevila alla temperatura della fonte san benedetto l'acqua che sa di primavera le tedesche non sono male ma volete mettere le italiane chiedete un parere al vostro installatore di fiducia davvero esperto saprà consigliarvi il meglio una caldaia balzarotti ad esempio sinonimo di alta tecnologia e qualità italiana così affidabile innovativa e duratura che la comprano in tutta europa germania inclusa grazie a tutti grazie a tutti